Un ragazzino mi assalì l'ingordiggia del semaforo verde e per non perderlo acciaccai l'acceleratore. Un ragazzino schizzò sulla strada per riprendere la palla e lo falciai. È stato un caso? Commento, no, perché non era un caso la tua ingordiggia del semaforo. A meno che non chiami caso la tua bassa evoluzione.